Il mare, i gabbiani, la vita, la vita in Abruzzo. Ah, che profondo, che profondo l'aria. Il mare, i gabbiani, la vita in Abruzzo. Una passeggiata di spiaggia con MCC 137, gente. Oggi ci sono le nuvole. Che spettacolo. Ci sono i pescatori qui ed è pieno di pesci morti sulla riva. C'è la gente che non c'ha i soldi. Se ne sta a raccogliere dove esci qua. I gabbiani mettono in condivisione. Ah, che spettacolo, il mare d'autunno. È meraviglioso. Oh, guarda lì, un'intera famiglia di gabbiani. Meraviglioso perché non c'è nessuno. C'è solo il suono del mare e dei propri passi. Io il pesce non lo mangio più ormai da più di un anno. Uno, un anno e mezzo, due. Uno perché sono pieni di metalli pesanti. Mi li sto togliarmi. E ora che se mi mangio qualcosa che mi riempie di metalli pesanti. E due perché hanno degli occhi. Io non voglio mangiare più alimenti che avevano occhi. Che belli tutti insieme. Se mi avvicino volano. Ma io non voglio dissipare lì. E qui sono pieni di affidare. Cevi città. C'è Spirale. C'è un'intera canale. Ciao! Ciao! Che spettacolo! Il suono delle onde viene definito suono bianco. È un suono che riequilibria il sistema nervoso. Il suono delle onde viene definito suono bianco. Il suono delle onde viene definito suono bianco. Il suono delle onde viene definito suono bianco. Il suono delle onde viene definito suono. Il suono delle onde viene definito suono bianco. Grazie a tutti Oggi è giovedì e come tutti i giovedì, negli ultimi due mesi, ci sarà l'appuntamento su Zello, un'applicazione che funge da Walkie Talkie, dove si può parlare in gruppo. E ci sarà il giovedì gioviale, in cui parleremo di tanti argomenti, ma l'argomento principale che trattiamo sono le vibrazioni e le frequenze sotto ogni punto di vista. Quindi, per chi non ha impegni, sono ben lieta di invitarvi nel canale Coscienza Collettiva. Bisogna essere verificati per utilizzare la portante per parlare. Grazie a tutti Insomma, oggi è una bellissima giornata, abbiamo fatto un bel bagno di vitamina D Per il sistema immunitario, sacco quando fa bene Buona giornata Italia